La bellezza e il mistero della creazione generano nel cuore dell'uomo il primo moto che suscita la preghiera. Che cosa è l'uomo? Quasi un nulla, una creatura fragilissima. Eppure, in tutto l'universo, l'essere umano è l'unica creatura consapevole di tanta profusione di bellezza. Questa vita, nonostante tutte le sue fatiche e le sue prove, è colma di una grazia per cui meravigliarsi. Siamo i figli del grande Re, del Creatore, capace di leggere la sua firma in tutto il creato. Il Signore ti faccia capire sempre più profondamente questo e ci porti a dire grazie. 5 grazie e una bella preghiera.